La fondazione Archevel ha lanciato il progetto Welcome, che mira a sostenere le donne afghane sfollate, mentre si stabiliscono negli Stati Uniti. Il principe Ferry e Meghan Markle hanno rivelato il nuovo programma lanciato attraverso la loro fondazione Archevel, che potrebbe riportarli sulla mappa di Hollywood. Ciò avviene dopo che si era ipotizzato che la coppia stesse scivolando nello status di celebrità della lista C dopo che era stato rivelato che le donazioni dell'ente di beneficenza, erano milioni di sterline in meno rispetto all'anno prima. Lunedì l'Organizzazione di Beneficenza ha pubblicato il suo rapporto sull'impatto che ha svelato una nuova iniziativa lanciata in Sordina quest'anno dalla Duchessa di Sussex. È stato ispirato dalla hub Community Kitchen che ha sostenuto nel suo ruolo reale nel Regno Unito. Il progetto Welcome sostiene la programmazione guidata dalle donne per le donne afghane recentemente reinsediate per aiutare a costruire comunità più inclusive e connesse. Ci sono 11 iniziative del progetto Attive negli Stati Uniti, e sono, progettate per promuovere un senso di appartenenza, attraverso attività tra cui cucito, cucina, escursionismo, fotografia e nuoto. Ci sono hub in California, Montana, Texas, Wisconsin, D.C., Georgia, Massachusetts e Virginia. L'Impact Report sottolinea che quasi il 99% ha stretto una relazione o un'amicizia significativa. Il 98% ha rafforzato il proprio senso di connessione sociale e diminuito la solitudine e il 99% concorda che la propria cultura e il proprio stile di vita sono stati accolti e trattati con rispetto. L'idea è nata dopo che il principe Ferry e Meghan Markle hanno visitato una base militare nel 2021, dove Meghan è entrata in contatto con le famiglie afghane sfollate. Grazie a tutti.